Che cosa ti ha fatto pensare che ci fossero cieli più belli al di là delle mura di casa oltre il giardino in fondo alla strada che cosa ti ha fatto pensare e quando hai passato il cancello sulla strada che sale ad Assisi tu il figlio del ricco mercante senza un soldo e senza le scarpe Francesco uomo santo e felice e così te ne vai coi tuoi pochi tanto ricco della tua povertà così saggio da parlare anche col lupo tanto sapiente da non volere niente La 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 Che cosa mi ha fatto pensare questa sera a cieli più belli al di là delle mura di casa oltre il mare in fondo al tramonto che cosa mi ha fatto pensare e quando mi sento già stanco sulla strada che va poco lontano io il figlio di un padre qualunque con le scarpe ma con poco coraggio Francesco mi sento già vecchio e così me ne vado da solo sulla strada che sale ad Assisi così solo da cercare a ogni passo la tua voce che ancora muove il grano Francesco uomo santo e felice Grazie 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 Grazie